Dove te ne vai? Eh, non lo so. Vi faccio un giretto. Ho una sorpresa per te quando torni a casa. Ti hai fatto? Ci devi pagare la nostra parte. Ti hai fatto? Ci devi pagare la nostra parte. Ti hai fatto? Ci devi pagare la nostra parte! Vieni a casa. Vieni a Suburbi con me.